Ma vede, io ho visto tante esternazioni di ministri in questi giorni dovute a inesperienza e a eccitazione del momento. Non credo che questi divieti possano servire a qualcosa. Io credo che la gente debba essere informata. Però se Letta ha ritenuto opportuno di dare questi consigli, questa moral suasion ai suoi ministri, perché no? No, imparino, cerchino di capire il lavoro che hanno da fare e poi, intanto si sta parlando di 15 giorni, quindi poca cosa. Penso che l'Italia abbia problemi più importanti di questo.